Coinvolgimento e condivisione sono le parole chiave del patto per le imprese illustrato oggi in una conferenza stampa alla quale hanno partecipato gli stati generali di Confindustria Taranto. Il documento, già presentato nelle scorse settimane al prefetto, parte sostanzialmente da un diverso concetto di centralità delle imprese rispetto al sistema socio-economico ionico per evidenziare la necessità di un coinvolgimento di tutti gli attori sociali del territorio, istituzioni, associazioni, politici e sindacati. Manca una visione progettuale forte, un programma condiviso, ha detto il presidente di Confindustria Luigi Sportelli, che ha però sottolineato come il momento sia propizio sul piano delle prospettive, citando in tal senso Anypower, Tempa Rossa e Cementir. Ma per risolvere i problemi e riprendere il cammino, il presidente di Confindustria ritiene sia necessario identificare soprattutto le responsabilità di chi è chiamato alla continuità amministrativa e gestionale del territorio. Il riferimento è naturalmente alla politica, anche alla luce delle polemiche recentemente sollevate da alcuni esponenti politici locali. La conferenza di oggi è stata anche l'occasione per fare il punto su alcune opere non realizzate e su alcuni finanziamenti a disposizione, ma non intercettati. Marinaro del Lancia ha sottolineato come visiano fondi non utilizzati per il dissesto idrogeologico, gli ha fatto eco Vincenzo Cesario, rappresentante degli imprenditori metalmeccanici, in relazione a finanziamenti non intercettati, e Lorenzo Ferrara, responsabile ambiente chimica, che ha evidenziato l'impegno con l'Università per la costituzione di un polo tecnologico della Magna Grecia che possa dare un nuovo impulso al territorio.